Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo vlog e vi faccio vedere oggi questo nuovo creativo Tutto finito, alle mie spalle non è ancora tutto finito, però siamo abbobbito per farvi vedere il mio angolo creativo finalmente finito, completo Allora, io sono pronta, ti giro la telecanomera Allora partiamo da qua, questo è il mio bauletto viola dove ci sono varie cose Poi però nel dettaglio le vedremo meglio in un altro vlog Questo è il mio portafostelle della Big Shot Abbiamo la scrivania Al momento, ci sono due scatole qua sotto perché devo decidere dove metterle Vado subito qua per farvi vedere se c'è qua Abbiamo la Big Shot, Tutti Punch e la Texto Boutique Qui c'è la Synch e la mia Reflex Canon E due scatole che viene qua Allora, questa scatola bianca, questa Contiene tutte le stirali di ferro di quella della Synch Quella delle bagge Ok, passiamo qua Un fuoco, ok In giro Questo è il planner Il portatile Il mio gioiello, prezioso, la cricket Qua poi c'è un'agendina, lo scotch, i bigliettini da visita E un po' di pennarelli, penne, queste cose qua Questa è una piccola spazzatura Poi, qui abbiamo la mia stampante E il pupazzetto con la mia iniziale Nella sedia La lampada Un portatile tratti A cui sono molto legata perché me l'ha regalata la mia migliore amica Questa è la mia nuova Plasticatrice Il mio nome, non poteva mangiare Poi qua dall'alto Vabbè, quella sua l'ha troppo Ma sembra più di sale E qua abbiamo tutte queste scatole Che poi un bel giorno vi farò vedere bene E questo pannello va riempito Con tutte queste cose che ci sono qua dentro Le cose, le forbici, tutto E qua su dovrò mettere il mio logo Questa è la stampante Questo è un taglierino I cannele Che vanno a batteria E qua vediamo E qui c'è tutto Questo qua, tutte le risme di carta Ma mi devo comprare ancora il Il contenitore di plastica Qui sono ancora i fili Perché devo ancora collegare tutte le macchie E questo è il cavalletto Della Netflix Spero che vi sia piaciuto Proprio come lo volevo io Anche se non sarà per sempre Perché poi questa camera sarà solo Il mio figlio e io sposterò tutto In un'altra stanza Ma al momento io ho bisogno di stare con lui Perché è ancora piccolo Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Mettete un pollice in su E iscrivetevi al canale Ciao ragazzi E al prossimo video Ciaooon Ciao Grazie per la visione!